Dunque, siamo qui riuniti per il quinto webinar della nostra serie Your Library Does Not End Here, che è una serie che abbiamo iniziato ormai una decina di giorni fa parlando della piattaforma di prestito digitale Media Library Online. Ok, che cosa abbiamo fatto in questi cinque webinar che abbiamo fatto da lunedì scorso a oggi? Fondamentalmente è stato un percorso di approfondimento sui contenuti della biblioteca digitale Media Library Online, che fondamentalmente è... Scusate, penso di avere ancora un problema con il mio audio. Voi riuscite ancora a sentirmi? Chiedo una conferma anche a Valentina. Ok, perfetto. Chiedo una conferma anche a Valentina. Sicuramente la registrazione andrà meglio di questa diretta e probabilmente è determinato dalla mia connessione. Allora, siamo all'ultimo appuntamento del nostro webinar, della nostra serie di webinar e questo Your Library Does Not End Here, da dove arriva? Beh, semplicemente arriva da una biblioteca americana, questo titolo, che fondamentalmente all'ingresso della propria biblioteca ha posto questo grande banner che dice La vostra biblioteca non finisce qui. Che cosa significa questa cosa? Semplicemente che questa biblioteca, per sponsorizzare i propri servizi digitali, ha coniato questo slogan che dice Non è che la biblioteca, quando è chiusa, è finita lì. Anche la biblioteca, anche in orari di chiusura, continua a seguirvi con tutta una serie di servizi che vi può mettere a disposizione in versione digitale. E allora la biblioteca non finisce dove finiscono i suoi muri. Ecco, perfetto, mi sembra che tutto vada ancora bene. E ok. Che cosa abbiamo visto nelle scorse settimane? Abbiamo visto una serie di cose. Siamo partiti dalla piattaforma Mlolen, ne abbiamo navigate, diciamo, le funzionalità principali e abbiamo scoperto come si utilizzano la ricerca, i filtri, come sono organizzati i contenuti, come fondamentalmente si possono trovare delle risorse digitali di ogni tipo grazie alla vostra biblioteca che le rende disponibili. Che cos'è la distinzione tra le risorse Mlolen e le risorse Open? E poi siamo passati a scoprire nel dettaglio le varie risorse a disposizione in catalogo, ovvero come si leggono gli ebook, come si leggono su computer, smartphone e tablet, come si leggono i giornali online, come si guardano, ascoltano le risorse audio e video su Media Library Online, quindi audiolibri e film e musica. Tra l'altro vi devo confessare, e l'avrete visto se avete già guardato le slide dell'altro giorno, che c'era un errore nel mio webinar dedicato agli audiolibri, in particolare sul formato degli audio ebook, che è un formato molto particolare, io vi ho dato delle informazioni che non erano completamente corrette, e quindi in realtà ci sono stati... ho portato delle correzioni, c'è un'errata corrige sulle slide della quarta puntata che vi invito ad andare a vedere, e nel caso, se avete avuto delle difficoltà usando poi quelle risorse che vi avevo consigliato, scusatemi, ma è stato un errore mio. Di cosa parliamo oggi nel quinto appuntamento del nostro percorso, se ci riusciamo? Delle risorse open. Le risorse open sono fondamentalmente la risorsa con il numero più grande di oggetti digitali che abbiamo a disposizione dentro a Media Library Online, e sono un milione e mezzo di risorse che abbiamo selezionato dalla rete. Oggi vi racconto che cosa c'è lì dentro, come funziona la selezione, chi se ne occupa, la mia collega Lara Marziali, che saluto a distanza, e poi vi racconto come si utilizzano le risorse open, dandovi degli esempi pratici di utilizzo. Ora, faccio un ultimo sondaggio. Ora sento bene, procedo, ok, ora. Procede, procede. Grazie mille. È normale che vediate le slide e non vediate la mia faccia, di cui oggi possiamo fare sinceramente a meno. Continuate nel caso doveste avere dei problemi a farmi sapere se funziona o meno. Comunque non preoccupatevi se in questo momento sentite solo la mia voce e vedete solo le mie slide. è la cosa più importante. Ve lo richiederò fra tre minuti perché l'ansia mi sta salendo. Allora, abbiamo visto, appunto, nelle scorse settimane, siamo pronti a saltare lo squalo con questo webinar, infatti l'inizio è stato proprio così. Abbiamo visto che in queste settimane i servizi digitali in un momento di chiusura delle biblioteche sono, diciamo, stati portati ancora più in luce rispetto a quanto erano evidenti in precedenza perché fondamentalmente in un periodo difficile per tutti e di chiusura delle biblioteche che i servizi digitali sono i modi in cui le biblioteche possono rendere disponibili tantissimi contenuti che siano commerciali o ad accesso libero ai propri utenti gratuitamente a distanza. Ora, fondamentalmente, di solito, le biblioteche iscrivono i propri utenti rilasciando un username e una password in sede. Voi andate in biblioteca e vi scrivete, vi vengono rilasciate delle credenziali d'accesso che voi poi potete usare sul sito www.medialibrary.it Ora, in questo periodo dei sistemi bibliotecari hanno approntato, proprio in un periodo di chiusura complicato per tutti, dei collegamenti diretti per potervi chiedere l'accesso anche a distanza e una serie di sistemi bibliotecari, appunto, se guardate qua, c'è una pagina dentro a Media Library che dice proprio la biblioteca digitale è sempre aperta, scopri come fare per iscriverti a Mlol. Ecco, una serie di sistemi bibliotecari che potete vedere elencata qui ha reso disponibile la possibilità di iscriversi online o comunque di richiedere informazioni via mail o attraverso particolar riforma la biblioteca che poi provvede a rilasciare le credenziali. Ora, la cosa importante è dire che tanti sistemi bibliotecari offrono già un accesso al sistema Mlol con le stesse credenziali con cui propongono l'accesso all'OPAC. Quindi, delle biblioteche come quelle dell'area metropolitana di Roma o le biblioteche civiche torinesi o quelle di Milano, la rete bibliotecaria bergamasca, Brescia e Cremona, ad esempio, o Bibliomò per gli utenti di Modena, offrono già l'accesso con le medesime credenziali con cui si accede ai servizi di prenotazione dei titoli cartacei, ad esempio, dei DVD, eccetera, eccetera, le stesse credenziali con cui si accede al catalogo online delle biblioteche. Quindi, per tantissimi di voi non ci sarà neanche bisogno di richiedere l'iscrizione alle biblioteche, un'iscrizione aggiuntiva e particolare a Mlol, perché tanti di voi, semplicemente, già hanno le credenziali senza saperlo. In caso contrario, se la biblioteca non vi dà l'accesso con le stesse credenziali al catalogo online, quando vi iscrivete vi darà delle credenziali separate, vi manderà una mail con username e password, è il caso di Parma, ad esempio, o di Piacenza, o di Bologna, o di Trento, o di tantissimi sistemi della Toscana, che fondamentalmente al momento dell'iscrizione in biblioteca o tramite i form che vi dicevo prima, vi danno l'accesso con una mail che contiene un link di attivazione, che dovete copiare e incollare nella vostra barra dei browser per attivare l'account, e poi inserire username e password che vi vengono assegnati. Con quelli potete accedere al servizio di prestito digitale. Ok, questi sono i due modi con cui si accede ai servizi Mlol. Ora, prima di buttarmi nelle risorse open, io vi chiedo un'ultima volta di dirmi che vedete la slide fare le cose bene e sentite il mio audio. Ok, grazie, grazie Paolo. Abbiamo un primo riscontro, datemi ancora un minuto, tutto ok. Grazie, mi state veramente sostenendo in questo momento difficile. Sonia, sì, mi spiace, l'audio salta un po', questo può dipendere sia da me che dalle vostre connessioni. Provo ad andare avanti. Grazie. Ora, nei nostri primi webinar abbiamo citato nel nostro primo webinar, proprio quello di lunedì scorso se c'eravate, due dei nostri guru digitali, Jeffrey Schnapp e David Weinberger, che sono fondamentalmente due dei nostri guru sulla biblioteca digitale. Ora, noi siamo partiti da un libro che si chiamava The Library Beyond the Book, la biblioteca oltre il libro, con questa citazione che diceva L'era dell'informazione ha iniziato da subito ai roderi i muri della biblioteca moderna, ha trasformato biblioteche incentrate sugli scaffali, in data center pieni non solo di libri ma anche di innumerevoli postazioni di lavoro, il fatale doppione digitale delle stanze di lettura analogica. Inizialmente legate a reti locali connesse ai cataloghi digitali che stavano su server istituzionali, questi rozzi terminali si sono un poco alla volta aperti al World Wide Web. In aggiunta arrivò come una marea l'accesso a nuova informazione e insieme dubbi su dove iniziasse e finisse il ruolo della biblioteca. Your library does not end here, diceva quella frase. E da qui, dal nuovo ruolo che le biblioteche hanno acquisito nell'era dell'informazione, si è passati a definire la biblioteca in un altro modo. Library as a platform, come dice David Weinberger, l'altro nostro guru. Una biblioteca come piattaforma, che darà accesso non solo a tutti i contenuti a disposizione direttamente e indirettamente, le risorse sugli scaffali, le risorse elettroniche che ha l'autorizzazione a fornire gli oggetti fisici e virtuali all'interno della rete di istituzioni con cui collabora, ma anche a tutti i dati che può trovare. Dati di un set curato provenienti da istituzioni affidabili, incluse organizzazioni scientifiche e non profit. Dati dei governi locali e di tutti i livelli di governo, contenuti forniti da membri locali come digital shoeboxes di scene locali. Alcuni di questi dati potrebbero essere reperibili altrove, ma la biblioteca può rendere questi dati più usabili aggregandoli, certificandoli come affidabili e interessanti, catalogandoli, aiutando gli utenti a fruirne e a comprenderli. Ora, questa introduzione era perfetta per aprire tutto il nostro percorso dedicato al prestito digitale, ma è ancora più importante, è ancora più importante ora che parliamo delle risorse open. E perché è ancora più importante? Perché fondamentalmente noi abbiamo costruito una collezione di contenuti digitali ad accesso libero di un milione e mezzo di risorse che sono disponibili gratuitamente, liberamente per le biblioteche e a loro volta per tutti gli utenti di queste biblioteche digitali. Che cosa abbiamo fatto con questa collezione open che contiene appunto risorse consultabili senza limitazioni? Beh, bisogna partire da una definizione, da una questione molto importante a monte. Ora, tra di voi ci saranno tantissimi bibliotecari oltre che utenti, no? Ecco, la professione del bibliotecario, oltre che quella dell'insegnante, è quella che oggi fondamentalmente nell'era dell'informazione e dell'accesso disintermediato all'informazione richiede dei superpoteri, no? I superpoteri sono quelli che se una volta vi bastava essere quelli che stavano dall'altra parte del bancone o della cattedra per dire, ok, questa informazione è validata e ce n'era un numero limitato, controllabile, oggi con l'accesso alla rete tutti hanno accesso a tutto. Ecco, il ruolo del bibliotecario nell'era digitale, il ruolo degli insegnanti, anche proprio quello che in realtà è più importante che mai, nel senso che queste due professionalità stanno al crocevia, all'incrocio tra, o meglio, stanno davanti all'utente con la sua richiesta di informazione, al cittadino medio, insomma, che arriva in biblioteca e chiede un'informazione. Il bibliotecario è quello che ha le competenze per dire questa informazione che hai trovato in rete è valida, quest'altra no, quest'altra sì, quest'altra no. Il ruolo del bibliotecario probabilmente è importante oggi più che mai, nel senso che consente, diciamo, si pone come baluardo verso un'informazione autoritativa e di qualità che consente ai cittadini di imparare a distinguere informazioni validate da informazioni non validate e a loro volta di costruirsi poi in autonomia percorsi di formazione e informazione. Questo è il ruolo del bibliotecario nell'era digitale, secondo noi. La cosa più importante da dire è che allora noi che cosa abbiamo fatto? Visto che la rete è piena di decine e decine di miliardi di miliardi di miliardi di informazioni, noi abbiamo semplicemente pensato di mettere sui nostri scaffali digitali una serie di contenuti, selezionati dalla mia collega Lara Marziali, con l'aiuto dei bibliotecari e in talvolta anche degli insegnanti, che potessero aiutare i bibliotecari e gli insegnanti a fare ancora meglio il loro lavoro e agli utenti a fruire di risorse di qualità messe a disposizione in digitale dalla propria biblioteca. Quindi fondamentalmente risorse gratuite, liberamente consultabili, prese da fonti validate e sono sempre consultabili da tutti. Che cosa c'è dentro a queste risorse? Dopo vediamo tutte le tipologie possibili e immaginabili di risorse che abbiamo inserito all'interno della nostra biblioteca digitale, ma soprattutto per spiegarvi che cosa siamo andati a pescare, siamo andati a prendere fondamentalmente risorse che, diciamo, potevano essere o in pubblico dominio, quindi ad esempio risorse, gli e-book di autori che sono morti da più di 70 anni, che vengono, diciamo, liberati dai diritti d'autore e vengono resi disponibili e possono essere liberamente scaricabili da progetti di biblioteche digitali che sono disponibili in rete e quindi per queste licenze di pubblico dominio voi potete fare quello che volete con questi file, li scaricate, li conservate, li riusate come desiderate perché non c'è più il diritto d'autore qui sopra. Dall'altro capo dello spettro emotivo delle licenze, diciamo, d'accesso alle risorse c'è il copyright, il diritto d'autore. Vi faccio un esempio molto pratico. Noi nel nostro catalogo di risorse open, che poi andiamo a vedere, abbiamo catalogato tutta una serie di video della RAI, tutta una serie di e-book di un editore che fa i book di informatica e si chiama O'Reilly, che sono col copyright, col diritto d'autore, quindi quelle risorse le potete magari consultare, le potete magari scaricare, ma non le potete riutilizzare come volete perché hanno il diritto d'autore. Però essendo consultabili liberamente e gratuitamente, le abbiamo messe tra le nostre risorse ad accesso libero. Quindi tutti gli utenti potranno accedere anche a queste risorse col copyright, avranno delle limitazioni, ma potranno comunque vederle, leggerle, ascoltarle in base al tipo di legge di risorsa che abbiamo. Qua in mezzo, in questa bellissima immagine che ha creato la nostra grafica Paola Luschi e saluto anche lei, c'è una cosa che fa riferimento alle licenze creative e creative commons. E adesso io vi faccio vedere una cosa che abbiamo messo nel nostro portale. Nella sezione info del portale Media Library, tra le tante pagine che su tutti i portali sono a disposizione, c'è che cosa significa open. E qua dentro vi spieghiamo che cosa sono le licenze che sono disponibili per le singole risorse ad accesso libero che abbiamo messo sul nostro sito. Ora, da una parte abbiamo detto che c'è il pubblico dominio, quindi quelle risorse per cui non esiste più il diritto d'autore e che possono essere liberamente riutilizzate come si desidera. Quindi nessun diritto riservato. Dall'altra parte, invece, all'altro capo dello spettro c'è il copyright. Tutti i diritti riservati. Potete magari consultare quell'opera, ma non potete riutilizzarla liberamente. In mezzo tra queste due cose c'è un mare magnum di licenze che si chiamano licenze creative creative commons, che sono licenze che sono state create proprio per il riuso delle opere di ingegno nel digitale che fondamentalmente vi dicono a monte che cosa potete fare con una certa opera. è l'autore che lo stabilisce applicandovi quella licenza lì. Qua dentro, nella sezione che cosa significa open, abbiamo messo tutti i possibili livelli di open, di apertura, che abbiamo messo nella nostra collezione di risorse open. perché la risorsa, qua dentro, è caricata con una licenza creativa. Quindi nella singola immagine della NASA che trovate tra le nostre risorse open, troverete sicuramente la licenza che vi dice è in pubblico dominio, è in creative commons e vi spiega che cosa potete fare con quella risorsa, perché noi siamo abituati tutti i giorni a scaricarci un'immagine da internet e a ripubblicarla su Facebook come se fosse nostra. Ma se così non fosse? E allora la nostra collezione open si pone anche l'obiettivo pedagogico di dire ok, questa tipologia di risorse digitali ha una licenza con il copyright. Quindi tu sai che non puoi utilizzare la risorsa ma non puoi riprodurla o riutilizzarla. oppure è una licenza CCBuy puoi condividere, riprodurre e distribuire questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata. Il pubblico domini a copyright dato che i diritti sono scaduti solitamente 70 anni dopo la morte dell'autore. E ok, quindi abbiamo un quadro generale di quello che noi abbiamo voluto fare con le nostre risorse ad accesso libero che sono delle risorse che sono gratuitamente disponibili in rete sono legalmente disponibili in rete possono essere distribuite in pubblico dominio oppure distribuite con licenze Creative Commons oppure ancora essere in copia. L'importante è che siano risorse validate e che siano risorse a cui gli utenti possono accedere gratuitamente senza alcun costo per la biblioteca e dunque è questo il motivo per cui nei vostri sistemi bibliotecari nelle scorse settimane abbiamo visto ci sono risorse diverse perché ogni sistema bibliotecario decide quali sono le risorse Mlol che può acquistare però le risorse open sono uguali per tutti e in questo momento sono quasi un milione e mezzo che sono distribuite in questo modo che abbiamo detto. E allora torniamo a Monte e diciamo che la biblioteca come piattaforma Mlol è proprio una biblioteca come piattaforma nel senso che abbiamo detto mette a disposizione contenuti contenuti digitali e soprattutto mette a disposizione anche tutta una serie di metadati che consentono di accedere per bene con criteri da biblioteca biblioteconomici anche a risorse che arrivano da fonti diverse perché la cosa importante è dire che queste tipologie di risorse stanno dappertutto in rete arrivano da tantissimi progetti digitali e quindi le trovereste già in rete voi potreste dire sì d'accordo queste risorse c'erano già io le conoscevo però voi non potete ricordarvi tutti i progetti di biblioteca digitale che arrivano da tutto il mondo e che noi abbiamo catalogato qua guardate se clicco su distributori quando vado nelle risorse open quanti ne ho questi sono tutti i progetti che abbiamo pescato dalla rete progetti di qualità anche con l'aiuto dei bibliotecari che consentono di mettere a disposizione risorse ad accesso libero gratuitamente legalmente e di qualità sono tutti questi il ruolo della biblioteca digitale quindi è anche quello di aggregatore di contenuti provenienti da tantissime fonti diverse quindi è una questione di comodità oltre che di organizzazione biblioteconomica se voi vedete che tra tutte queste cose non ce n'è una che ho usato abitualmente e che è molto utile secondo voi cliccate sul pulsante info e suggerisce una risorsa open invito soprattutto i bibliotecari ma tutti quanti gli appassionati di open access a fare suggerimenti del genere ci potete suggerire una risorsa open da aggiungere alla nostra biblioteca digitale aperta e in questo modo inserendo la vostra mail il titolo della collezione la tipologia che cos'è? è una banca dati è una è un manoscritto una mappa ok? noi potremmo capire se questa risorsa gratuita che voi ci avete consigliato può essere adatta con tutti i dettagli alla nostra collezione di risorse open il vantaggio la cosa bella di questa partecipazione è che le risorse che voi ci segnalate verranno messe a disposizione di tutte le biblioteche italiane che aderiscono a Media Library Online ed è questo il motivo per cui la nostra collezione open la chiamiamo la biblioteca digitale aperta e partecipata ok vedo che continuate a sentirmi sì allora adesso Stefano arriviamo con i filtri dei vostri per la ricerca ed è importantissima la cosa che mi hai appena chiesto e la rendremo presto nota a tutti allora io vado nella collezione delle risorse open e come vi dicevo c'è veramente tantissimo da scoprire tantissimo da scoprire di molte tipologie in più rispetto a quello che abitualmente succede tra le risorse commerciali perché noi abbiamo visto che il vostro sistema bibliotecario può acquistare una serie di una serie di risorse audiolibri ebook banche dati con l'archivio pro del Corriere della Sera musica con Naxos giornali da tutto il mondo con Press Reader ma le risorse che abbiamo catalogato nella selezione per la collezione open sono molte di più e di tantissime tipologie diverse come potete vedere scorrendo per il filtro tipologie che io apro qua come vedete non ci sono solo quelle risorse che abbiamo visto nella sezione delle risorse commerciali ma moltissime di più applicazioni audio audiolibri banche dati anche qui ma anche i learning immagini ebook ancora con la sezione dei libri digitali ma poi ci sono i manoscritti ci sono le mappe gli spartiti musicali le stampe 3D i video i videogiochi ecco queste sono le tipologie che al momento sono disponibili tra le nostre risorse open ok voi potete approfondire questa la vostra prima diciamo la vostra prima ricerca nelle risorse open con questo filtro per tipologia ma soprattutto io vi consiglio per scoprire che cosa c'è dentro per bene di andare a vedere i distributori per capire da dove abbiamo pescato ad esempio gli ebook ok vi faccio un esempio pratico andiamo partiamo dai libri digitali e ricordatevi che se io seleziono gli ebook nella sezione open analogamente sto facendo una ricerca fra gli ebook anche fra le risorse mlol e ricordatevi anche che ogni volta che cercate una parola chiave qua dentro trovate la stessa parola chiave ricercata sia per le risorse mlol che per le risorse open lo stesso vale per le ricerche con i filtri ok potete utilizzare il filtro per distributore quindi ad esempio scoprirò gli ebook di progetto Gutenberg eccoli qua 47.000 e poi potrò filtrare per licenza la cosa che mi chiedeva il vostro collega il vostro collega partecipante Stefano è posso filtrare anche per licenza assolutamente sì potete filtrare per ebook in pubblico dominio ad esempio oppure con tutti i diritti riservati insomma potete fare delle ricerche filtrandole con tutte queste faccette per la ricerca che abbiamo inserito e che sono disponibili per voi quindi potete filtrarli in questo modo potete poi filtrarli per lingua perché ovviamente avete tantissime lingue per gli ebook avete 92.000 ebook in lingua inglese ad esempio tra quelli ad accesso libero ecco gli ebook partiamo dagli ebook per analizzare un po' la collezione che cosa c'è dentro al nostro sì Marta ci sono anche prodotti con licenze cc0 bisogna magari non sono fra gli ebook se io annullo la mia ricerca posso andare a vedere tra le licenze che cosa c'è queste ad esempio licenze cc0 adesso non mi sta caricando correttamente tutte le immagini ci mette un pochino però fondamentalmente questo è un tipo di ricerca che potete fare prego è un piacere rispondere a domande che non sono aiuto non ti sento più allora io qua ho filtrato per cc0 ma adesso torno alla mia collezione di ebook così vi faccio vedere che cosa c'è dentro ci sono 350.000 titoli ok 350.000 titoli che oggi voi utenti o insomma siete bibliotecari che iscrivono potete dire ai vostri utenti di andare a casa a loggarsi con le proprie credenziali appena ricevute fresche dalla biblioteca e accedere a un certo numero di ebook in prestito ogni mese nella sezione degli ebook commerciali ma soprattutto a 350.000 ebook consultabili senza nessun tipo di limitazione dalla collezione delle risorse open che contengono e che non vengono conteggiate ovviamente tra i prestiti mensili perché queste sono libere per tutti se voleste scaricarvi qualcuno dei 300.000 libri che sono direttamente disponibili in formato e-pub col pulsante scarica dentro a Media Library lo potreste fare oggi stesso ve lo sconsiglio vivamente però lo potreste fare e qua dentro che cosa c'è? ci sono gli ebook ad esempio dei progetti di digitalizzazione delle biblioteche nazionali oppure ci sono come vi facevo vedere prima gli ebook di progetto Gutenberg che è il più antico progetto di biblioteca digitale che esista al mondo che nasce all'inizio degli anni 70 gli ebook di progetto Gutenberg potete scaricarvi potete scaricarveli gratuitamente legalmente c'è proprio il pulsante scarica se vi loggate su Mlol e ve li scaricate e conservate per sempre senza alcuna limitazione quindi tutti i classici della letteratura in qualunque lingua che trovate qui dentro e potete scaricare li potete poi conservare per sempre tra gli ebook è interessante poi il corrispettivo italiano di Gutenberg che è LiberLiber che mette a disposizione 3000 in questo momento noi abbiamo catalogato 3000 ebook disponibili al download diretto direttamente dentro a Media Library e questi sono altri ebook in pubblico dominio che voi potete o in cc che voi potete scaricare liberamente dal sito secondo le possibilità offerte dalla piattaforma perché non è detto che tutte le risorse che trovate nelle risorse open abbiano il pulsante scarica perché magari non potete scaricarle direttamente magari avete solo la possibilità di leggerle su un sito ok questo capita ad esempio tra i nostri libri digitali con la collezione del New Yorker dei libri digitali abbiamo catalogato 28 storie brevi pubblicate da autori moderni e contemporanei che possono essere lette direttamente sul New Yorker in originale queste risorse naturalmente hanno il copyright tutti i diritti riservati perché sono racconti pubblicati su New Yorker ora però il punto è che io queste risorse non le posso scaricare per via del copyright e per via del fatto che sono semplici storie pubblicate su New Yorker in questo caso non avrò il pulsante scarica ma avrò il pulsante vai al sito e posso leggermi two men arrive in a village di Zaddy Smith direttamente sul sito del New Yorker ora qual è la cosa bella di questa cosa è che se io mi cerco Zaddy Smith dentro Amlol non otterrò semplicemente gli ebook di Zaddy Smith che posso prendere in prestito che la biblioteca ha acquistato per voi ma anche risorse ad accesso libero come dei racconti ad esempio oppure un'intervista qua ci sono Jeffrey Eugenides e Zaddy Smith è un'intervista sempre dal New Yorker e la cosa bella di queste risorse open è quella che rende così cool fare liste su Media Library nel senso che vi consente di creare veri e propri percorsi cross mediali tra risorse open e risorse MLOL che comprendano nel caso di Zaddy Smith ad esempio ebook un'intervista un racconto in lingua originale ma se pensate i classici della letteratura potreste mettere nella stessa lista non lo so Jane Austen nella versione buri italiana da prendere in prestito per 14 giorni tutta annotata bella eccetera eccetera ma anche la versione italiana in pubblico dominio oppure la versione originale in pubblico dominio oppure l'audiolibro in originale oppure una lezione di learning con dentro riferimenti a Jane Austen percorsi veramente che esplodono le bibliografie vecchio stile delle biblioteche tradizionali insomma per questo all'inizio dicevo che la collezione open in particolare è uno strumento che consente ai bibliotecari di fare i bibliotecari ancora meglio e agli insegnanti di fare gli insegnanti ancora meglio secondo noi perché consentono di approfondire verticalmente ogni singolo argomento vi faccio un esempio molto pratico ancora passiamo alla alla selezione delle immagini ci sono 380.000 immagini dentro a Media Library da che progetti arrivano e dopo mi fermo per vedere se avete indicazioni o domande su queste prime due cose che abbiamo visto gli ebook e le immagini possono arrivare ad esempio dal Van Gogh Museum che ha digitalizzato 3500 immagini oppure da questo servizio che si chiama Old Book Illustrations che va a pescare illustrazioni in pubblico dominio da libri che hanno una certa età diciamo e le rende disponibili al download le potete riutilizzare come volete perché sono in pubblico dominio queste immagini le trovate facendo la ricerca per tipologia nelle sezioni open e aggiungendovi magari Old Book Illustrations come filtro però in realtà la cosa bella è che voi potete cercare anche semplicemente con parola chiave come abbiamo visto prima oppure ci sono le digitalizzazioni del Metropolitan Museum of Art 50.000 immagini che abbiamo catalogato singolarmente la Library of Congress ha fatto queste ha reso disponibile ma anch'essa una collezione di immagini digitali più di 7.500 le biblioteche di Bergamo che arrivano a tutto il mondo tra l'altro le biblioteche di Bergamo hanno scelto di fare una bellissima lista con una selezione di immagini provenienti dall'Italia per fare una specie di tour dell'Italia insomma ma arrivano anche dalla NASA eccola qua la NASA ha reso disponibile tramite Internet Archive 40.000 immagini in pubblico dominio che vi consentono di scaricare e conservare per sempre non solo sapendo che una risorsa in pubblico dominio si può scaricare in altissima qualità infatti queste immagini noi le usiamo sul nostro fighissimo profilo Instagram che trovate come Mlola underscore media library online su Instagram quindi venite a seguirci taggateci nelle storie eccetera eccetera queste immagini possono essere riutilizzate possono essere rese disponibili anche agli altri lettori scaricate e condivise perché sono in pubblico dominio e la NASA su Internet Archive che è la più grande biblioteca digitale al mondo che noi saccheggiamo abitualmente perché è qui che di solito vengono messe tantissime le risorse digitalizzate dalle biblioteche e dalle istituzioni di tutto il mondo possono essere scaricate e rese disponibili la NASA ha fatto così e noi ne abbiamo catalogate 40.000 quindi se esiste insegnanti che assegnano una ricerca e gli studenti si mettono a cercare risorse su Samantha Cristoforetti voi non avete solo il diario di un apprendista astronauta uscito per la nave di Teseo da prendere in prestito ma anche risorse open come immagini immagini che sono distribuite in questo caso io ho cercato per Cristoforetti dalla European Space Agency che in questo caso non ha il pubblico dominio ma una licenza per il riuso non commerciale e il vostro studente può sapere e voi insegnanti sia dalla ricerca che dalla singola risorsa scusate che poi con l'aiuto della nostra guida che abbiamo visto prima che cosa significa open che cosa si può fare con quella risorsa lì e la cosa dell'immagine a me colpisce sempre tantissimo perché ovviamente è veramente veramente molto bella e altre cose che sono catalogate nelle immagini ad esempio sono tutte le collezioni digitali dei musei vi faccio un esempio molto bello che vado sempre a recuperare ah no quello sta nelle banche dati ve lo faccio vedere dopo l'ultima cosa che vi faccio vedere in questa prima carrellata è quella relativa agli spartiti musicali ci sono 260.000 spartiti musicali che per la maggior parte arrivano dal progetto della biblioteca musicale Petrucci che è una biblioteca digitale che fondamentalmente rende disponibili le versioni digitali di versioni spartiti in pubblico dominio che possono essere quindi scaricate in formato pdf e se io mi scarico questo lo spartito di omaggio a Chopin ad esempio me lo posso scaricare gratuitamente adesso uscirà una pagina in cui mi si chiede se voglio fare se voglio contribuire eccetera eccetera posso scaricarmi la partitura completa ecco omaggio a Chopin me la sono scaricata in formato pdf è mia la posso conservare per sempre e in tantissimi casi queste risorse associano allo spartito musicale anche l'esecuzione in questo caso non c'è ma se io cercassi ad esempio Ravel cliccassi su open e volesti andare a vedere poi le risorse di IMSLP che è la biblioteca musicale Petrucci ma vedete che ci sono anche altre tipologie di spartiti musicali che arrivano da altri progetti come quelli di Gallica o da Mutopia questo è come visualizzate gli spartiti dentro a dentro a come si dice alla biblioteca musicale Petrucci ecco l'altra cosa e quindi li potete scaricare in pdf e se c'è anche ascoltare l'esecuzione la cosa che volevo dirvi riguardo al vedete che sono fonti diverse che vi ho già detto prima che non tutte le risorse hanno lo scarica ma hanno il vai al sito in tanti casi che vi consente di consultare sul sito originale le risorse a disposizione le modalità di consultazione dei singoli siti ovviamente dipendono dai singoli siti quindi naturalmente non ha senso che io vi faccia vedere tutte le modalità con cui si fruisce in versione cioè delle risorse open sui progetti originali perché ovviamente cambiano da progetto a progetto però è giusto per dirvi che ognuno vi dà la possibilità di fruire del contenuto con delle modalità differenti queste erano le prime tre cose che volevo farvi vedere vediamo se ci sono domande su queste cose davvero strabilianti ah grazie bello esatto allora abbiamo qua Davide che è un insegnante che ci dice sono d'accordo sul fatto che potenzia enormemente l'insegnamento di frequente la ricerca per parola chiave a essere difficoltosa è vero la ricerca allora sulla ricerca per parola chiave è un po' complicato renderla meno rumorosa perché se inserisci una parola sola ci sono veramente così tante risorse che è difficile cioè è proprio complicato renderla più facile di così però sicuramente metteremo una ricerca avanzata che faciliterà le cose ancora di più delle faccette laterali che abbiamo usato fino adesso quindi abbi fiducia che nel corso del 2020 le potremo le potremo migliorare le risorse open sono scaricabili anche dal portale generale di Mlol senza loggarsi no il pulsante scarica c'è solo se siete loggati ma tutte le risorse open hanno il pulsante vai al sito anche se non siete loggati quindi in quei casi ad esempio i libri di progetto Gutenberg non li potrete scaricare però potrete andare con il vai al sito a pescarli dal sito originale la ricerca è meglio farla in lingua italiana o inglese dipende nel senso che se hai bisogno di una risorsa in inglese vabbè se hai bisogno di Jane Austen non lo so tu cerchi Austen e poi vedi che cosa ti esce però la ricerca la faremmo la faremmo cioè la fai come meglio credi sulla parola chiave poi secondo me si parte o da parola chiave se non sai ancora la lingua e poi filtri per lingua esatto adesso arriviamo la risorsa della risoluzione dell'immagine è alta di solito sì dipende assolutamente però dalla fonte da cui è presa però le immagini sono veramente veramente di altissima qualità di solito grazie Carlo spartiti divisi per strumento al momento no e non direttamente su media library però attenzione Flavia su media library no cioè tu trovi gli spartiti musicali magari se c'è la parola violino nel titolo riesci a trovarli così non c'è un modo di filtrarli con i filtri laterali per strumento però dentro alla biblioteca musicale Petrucci le singole opere ad esempio hanno le partiture per tutti gli strumenti quindi in quei casi lì puoi scaricare quella integrale o quelle singole quindi in quel caso può essere utile ah giusto Elisa sì no non sono stato chiaro io nella risposta ok la domanda di prima sulla lingua quello che vedo adesso è moon landing sites se trovi allunaggio non lo trovi lo stesso perché perché il titolo non ha dentro la parola allunaggio la ricerca per parola chiave avviene su titolo autore e distributore editore nel caso le risorse open anche nella descrizione viene pescata la parola ma la descrizione delle immagini di solito è nella lingua fornita dal progetto da cui viene recuperata l'immagine quindi no arrivo Marisa ecco Carla questo appunto la disponibilità di partiture anche per voce dipende dalle singole risorse ti consiglio di guardarla direttamente dentro la biblioteca musicale Petrucci quando ci arrivi come fonte va indicata Mlolo in siti originari i siti originari assolutamente allora i filtri scusate adesso ci arrivo direi che possiamo chiudere su questa parte di domande perché veramente ho ancora tantissime cose e abbiamo cominciato in ritardo però per colpa mia quindi insomma adesso stringiamo un po' i tempi però vi faccio vedere tutto quello che avete chiesto promesso allora ci sono anche 190.000 mappe ecco tra le mappe ad esempio vi faccio vedere che ci sono beh la collezione più bella è la David Ramsey Map Collection guardate questa copra del New Yorker ad esempio da una collezione privata che le ha digitalizzate ecco in tantissime immagini non in tutte in tante immagini e in risorse image based cioè basate sulle immagini come i manoscritti le immagini appunto alcune tipologie di ebook e le mappe vedrete che nella pagina non c'è solo il vai al sito o lo scarica eccetera eccetera ma c'è anche questo visualizzatore questo visualizzatore si chiama usa un protocollo che si chiama triple IF tra I e F insomma che diventerà uno standard per la visualizzazione di immagini in rete ad altissima qualità queste immagini nel corso dell'anno insomma verranno aggiunti degli strumenti in media library che consentiranno non solo di visualizzarle così ma anche di annotare le immagini direttamente sul sito e salvarvi le note su quella singola immagine e condividerle e sarà uno strumento portentoso per insegnanti e bibliotecari ma anche per utenti appassionati e nerd come nome insomma guardate che qualità si vede poi adesso se vedete le immagini a scatti sappiate che è normale perché il video di GoToWebinar non è in alta qualità ma se provate sul sito vedrete che sono veramente belle e in questo caso però la David Ramsey Map Collection ha tutti i diritti riservati quindi non potete riutilizzarla come volete però potrete annotarla quando sarà disponibile questa funzione e potrete conservarla potete anche scaricarvela non ripubblicare liberamente come fareste con una risorsa di pubblico dominio altre mappe che sono disponibili sono quelle di Gallica o di Harvard sempre della Library of Congress o della biblioteca di Harvard ecco altre le ultime collezioni che a me interessa a farvi vedere le risorse open e poi vi invito veramente a metterci le mani da soli sono quelle degli audio che raccolgono sia podcast di tantissime provenienze diverse sia ad esempio delle collezioni di musica classica o di musica comunque che certe biblioteche come la British Library hanno scelto di digitalizzare volete ascoltarvi questo concerto per piano e orchestra di numero 5 di Beethoven potete farlo grazie a British Library volete vedere cosa ha fatto allo stesso modo la biblioteca nazionale centrale di Roma ci sono 5000 risorse audio catalogate che possono essere ascoltate e sono tutte le cose che le biblioteche hanno il diritto di far ascoltare le hanno messe in rete noi semplicemente qua non è che le prendiamo in carico e le facciamo scaricare linkiamo a un progetto originale che vi consente l'ascolto Gallicane è catalogata 326 la BBC ne è catalogata e tante altre da Internet Archive abbiamo preso un archivio di 78 giri digitalizzati che potete ascoltarvi liberamente sono 55.000 voi pensate a un percorso basato sulle risorse audio e gli spartiti le risorse audio libere o quelle di Naxos tra le risorse commerciali gli spartiti musicali di musica classica cioè una cosa incredibile io mi sto gasando mentre ve lo racconto dopodiché ci sono i periodici e i periodici scientifici per quanto riguarda i periodici scientifici lo dico soprattutto ai bibliotecari perché qua dentro ci sono delle risorse peer reviewed di altissima qualità che vengono distribuite con DohaJ che è una directory online che mette a disposizione queste tipologie di risorse delle riviste appunto scientifiche che vengono rese disponibili e catalogate secondo criteri biblioteconomici e possono essere lette liberamente le cataloghiamo qua per tutti i bibliotecari ricordatevi che biblioteche oggi mette a disposizione dopo un tot di tempo che non mi ricordo mai quant'è le pubblicazioni in versione originale AIBstudy anche il bollettino AIB anche insomma qua dentro ci sono pubblicazioni più di interesse scientifico o anche per gli insegnanti c'è questa rivista che parla di digital nella didattica che si chiama BRICS e secondo me è veramente importante è mensile noi la carichiamo ogni due o tre mesi la aggiorniamo però è disponibile in pdf e sono suggerimenti utili per gli insegnanti per scoprire che cosa cioè come sfruttare al meglio le risorse digitali nella didattica che è un punto molto importante per noi e molto importante anche per le risorse open tra l'altro vi faccio vedere una cosa che non vi ho ancora fatto vedere che mi chiedevate prima c'è anche il filtro per livello scolastico ovviamente ricordatevi che le risorse open sono catalogate in maniera automatica da noi però cioè all'ingrosso nel senso che noi cerchiamo di essere i più raffinati possibili nella catalogazione però sono così tante le risorse che ogni tanto è veramente complicato dare delle classificazioni molto precise ecco questo è il motivo per cui gli argomenti a differenza degli ebook commerciali raramente sull'open arrivano al quarto livello di classificazione perché è difficile catalogarli in quel modo là e se sugli ebook commerciali i dati ci vengono forniti dagli editori qua i progetti online da cui peschiamo non è detto che offrano tutti quei dati così precisi ecco noi ci proviamo però abbiate abbiate pietà di noi e in particolare di Lara se c'è qualcosa che non va e comunque segnalatecelo sempre le risorse e learning le ultime tre cose che vi faccio vedere guardate anzi sono sempre di più le risorse e learning sono dei fondamentalmente sapete tutti cosa sono sono delle lezioni che vengono condivise online gratuitamente da tantissimi progetti in formato video audio oppure sul testo ad esempio we school è una piattaforma che si chiama il project una volta italiana che mette a disposizione migliaia di lezioni di tantissimi argomenti che voi potete filtrare per distributore e poi per argomento quindi volete solo le lezioni di we school dedicate a matematica e scienze eccole qua corsi esercizi video testi eccetera eccetera dentro a we school poi va bene noi abbiamo catalogato anche un'altra un'altra tipologia di contenuti che sta dentro a we school e sono sempre i learning ma arrivano da encyclopedia e li abbiamo catalogati a parte encyclopedia era il progetto di biblioteca digitale di Umberto Eco sulla storia della civiltà europea noi abbiamo catalogato 2500 lezioni che una volta venivano vendute in formato cd rom quando eravamo tutti giovani e vergini riguardo alle potenzialità dell'internet e c'era ancora quella cosa che si chiamava cd rom venivano vendute in questo modo poi sono state rese disponibili online e poi liberate dentro a we school voi potete trovarvi 2500 risorse encyclopedia che noi abbiamo catalogato a parte come encyclopedia con lezioni sulla storia della civiltà europea di un progetto con la sommintendenza di Umberto la supervisione di Umberto Eco quindi sulla validazione di queste risorse diciamo che siamo abbastanza tranquilli e possono essere a cui abbiamo una lezione di Eva Cantarella sulla famiglia e la patria potestà eccolo qua questo testo può essere fruito liberamente gratuitamente allo stesso modo we school è un progetto italiano ma e in cyclomedia anche in lingua italiana però ci sono anche progetti stranieri come Khan Academy Khan Academy è un progetto che raccoglie più di 12.000 video soprattutto cioè in particolare in inglese e su argomenti scientifici però ci sono anche tantissime cose di arte di letteratura ma soprattutto appunto matematica e scienze possono essere filtrate sono video che fondamentalmente vi parlano di argomenti specifici della matematica se uno non si ricorda come risolvere un'equazione di secondo grado primo insomma ripassi e secondo può usare per ripassare anche questi questi video di Khan Academy abbiamo catalogato anche i corsi gratuiti messi a disposizione dal Politecnico di Milano però ci sono anche cose più leggere ad esempio Crash Course Crash Course è un canale YouTube sviluppato da John Green che è l'autore di quei best seller young adult come Cercando Alaska oppure colpa delle stelle che ha un gemello cattivo che si chiama Hank Green e loro due insieme fanno questa cosa che si chiama Crash Course che è fondamentalmente una serie di video su YouTube in lingua inglese molto carini che parlano di specifici argomenti che possono essere società letteratura anche scienze in certi casi e ve li guardate ma soprattutto li potete riutilizzare per una vostra lista che approfondisce un certo tema e prima quando vi parlavo di di Jane Austen ad esempio io vi parlavo anche degli audiolibri nel nostro canale di risorse open ci sono anche 13.000 audiolibri e quando voi andate a filtrare 13.000 audiolibri che sono consultabili liberamente da tutti quando voi consultate gli distributori vedete che la maggior parte degli audiolibri arriva da un canale che si chiama LibriVox che è un progetto di biblioteca digitale che raccoglie letture pubbliche che vengono effettuate in tutto il mondo di classici della letteratura in pubblico dominio le registrazioni vengono rese disponibili tramite internet in lingua in cui vengono letti i libri ed è per questo che vi dicevo guardate se volete potete anche ascoltarvi l'audiolibro di un classico di Jane Austen in pubblico dominio perché c'è con LibriVox magari in lingua originale se io cerco Alcott e vado tra le risorse open vedete che trovo gli audiolibri 48 audiolibri in lingue diverse che con le letture di Luisa May Alcott quindi se mi voglio leggere mi voglio scaricare l'ebook in italiano posso farlo per 14 giorni l'edizione curata ma ho anche gli audiolibri in lingua originale o in italiano da ascoltarmi liberamente senza limitazioni in italiano con LiberLiber in inglese Little Women con LibriVox e questa è la potenzialità di risorse come gli audiolibri open tra cui abbiamo messo per la gioia di tutti voi partecipanti lo so già le singole trasmissioni ad alta voce quindi se voglio ascoltarmi favole al telefono letto su Radio 3 lo trovo qui ad alta voce Manuela Mandracchia ok e questi sono gli audiolibri ultime cose l'ho già detto mille volte lo so i video tra i video abbiamo dei film ad esempio e qua dentro abbiamo catalogato tutte le risorse di RaiPlay RaiPlay che in questo periodo tra l'altro ha tolto anche il login sul sito credo che sia ancora valida questa impostazione noi abbiamo catalogato tutti i film di RaiPlay i documentari guardate per la Rai quante cose ci sono sono catalogate qui dentro RaiTaker RaiScuola RaiFiction RaiDocumentari ma abbiamo messo anche i video TED e TED abbiamo messo i video di Treccani in scuola per le scuole abbiamo messo i video di Pitchfork sugli album musicali che hanno fatto per presentare certi capolavori della musica pop del Novecento e dell'inizio del millennio ci sono millequattrocento video dal New Yorker ci sono Films Pure and Fun che è un progetto molto carino che raccoglie duecentoquaranta video di qualità per bambini liberamente consultabili in rete il British Film Institute raccoglie centosessanta video liberamente accessibili Blank on Blank c'è anche un sito che prende delle interviste originali a personaggi famosi e le anima con appunto disegni e ne hanno fatti solo 80 ma sono bellissimi e vi consiglio andare a darci un'occhiata qua c'è Maurice and Duck su On Being a Kid guardate ve la faccio vedere perché è molto bella e speriamo che non mi parta la pubblicità di YouTube però I love watching animal movies on television and they always say don't run away and don't turn your back and don't run down flat and love is from my childhood how do you prevent dying how do you prevent being eaten e sono tutte 80 così e sono risorse bellissime queste di Blank on Blank e questo per la parte dei video last but not least abbiamo vabbè i videogiochi sono le versioni digitali per giocare gli emulatori che Internet Archive ha reso disponibili per circa 7000 videogiochi arcade degli anni 80 e 90 che possono essere rigiocati online quindi facciamo Stranger Things a casa insomma Zen Arcade per chi coglie la citazione e anche su Mlol io mi sono perso dentro a Shinobi però ci sono tantissimi videogiochi tantissime versioni degli stessi videogiochi disponibili online ci potete giocare da tastiera e ultime cose l'app le app sono delle applicazioni per bambini e ragazzi che sono disponibili gratuitamente per iOS e Android o iOS o Android insomma è una collezione che sviluppiamo appositamente per le scuole così come quella delle stampe 3D che sono modelli per stampanti 3D che vengono resi disponibili da diverse istituzioni e questa è la più importante di tutti però le banche dati le banche dati sono fondamentalmente la diciamo la cosa più la comunale le collezioni più piccole delle risorse open ma anche forse la più importante nel senso che ogni dentro ogni singola banca dati sono disponibili migliaia a volte decine di migliaia centinaia di migliaia di risorse e vengono possono essere lo strumento con cui ad esempio voi studiate la rivoluzione francese che ne so accedendo ai documenti digitalizzati dell'epoca cosa che quando eravamo giovani noi a scuola non si poteva fare perché non esisteva questa cosa tu ti studiavi la rivoluzione francese sul tuo libro di testo con due immagini l'apparato critico che era quello che ci stava su un libro di testo che non avesse 140.000 pagine e invece adesso lo studente di oggi l'insegnante di oggi può accedere è il bibliotecario quindi è il cittadino qualunque questo è il motivo per cui queste biblioteche digitali sono uno strumento che consente un miglioramento della nostra vita e una diciamo non vorrei sembrarvi appena sceso la montagna del sapone ma sono strumenti fondamentali per sviluppare una vera cittadinanza democratica diciamo e consapevole vi faccio degli esempi pratici questo della rivoluzione francese era solo un esempio che facciamo sempre vi dà l'accesso ad esempio delle banche dati vi danno l'accesso alle fonti primarie ai documenti dell'epoca ma immaginatevi la prima guerra mondiale con l'archivio vediamo se vediamo se mi ricordo come si chiama l'archivio sì beh ci sono quelli di europeana però ci sono degli archivi proprio delle guerre mondiali ad esempio che raccolgono le lettere dei soldati a casa sono digitalizzate non avete mai avuto prima l'accesso a queste risorse qua e adesso grazie a servizi come media library analoghi voi avete un posto dove queste vengono catalogate tutte insieme e rese disponibili facilmente facilmente relativamente ovviamente per i motivi di cui vi ho detto prima con una ricerca per parola chiave o per filtro e sono strumenti poderosi e le banche dati a monte già fanno questa cosa io vi invito proprio a guardarvene una la mia preferita è quella del Rix Museum di Amsterdam che qualcuno di voi avrà già visto perché la uso in tutti i corsi il Rix Museum di Amsterdam è uno dei musei al mondo più attenti alle questioni relative all'apertura delle proprie collezioni in digitale e allora io vado a vedermi il sito ovviamente il sito la modalità di consultazione dipende dal singolo sito e se io voglio vedere com'è la collezione digitale del Rix Museum guardate un po' guardate a cosa mi dà l'accesso ma lo fa anche il Prado in un altro modo l'abbiamo catalogato anche lui fra le risorse open guardate io voglio andarmi a vedere un Vermeer vediamo quanto ci mette a caricarlo la mia connessione e guardate questo è quello che fa il Rix Museum guardate carica l'immagine posso zoomarci guardate adesso ci mette un po' guardate a che qualità riesco a vedere guardate a che qualità riesco a vederla e a consultarla liberamente questo grazie alla collezione digitale di un museo che ha deciso di aprire i propri dati in questo modo e con le banche dati che su cui chiudo la mia selezione ognuna a modo suo vi consentono di fare questo tipo di operazioni ora nelle mie slide adesso arrivo da voi nelle mie slide io ho elencato tutti questi esempi che vi ho fatto e in più ho aggiunto delle liste open che proprio ieri l'altro ieri la mia collega Lara ha fatto per voi sulle biografie sui classici della letteratura sui videogiochi sul cinema ha fatto una lista di video sul cinema non proprio di film è sul cinema spunti d'arte e la lista andiamo al museo della rete bibliotecaria bergamasca che ha selezionato una serie di musei oltre a Rix Museum che vi danno l'accesso alle loro collezioni digitali ognuna secondo le proprie modalità ecco io direi che la panoramica sulle risorse open allora allora vediamo adesso io ho un milione di domande da parte da parte vostra e le cerco di recuperare un po' alla volta quelle che non riesco me le farete via mail insomma allora crash course è il mito di mio figlio 13enne non è una domanda ma è bellissima grazie Lucia come sono ordinati i documenti quando li cerco per popolarità sul nostro sito e una serie di altri parametri basati sulla sulla corrispondenza diciamo con la ricerca che avete fatto la risoluzione è disponibile quale risoluzione è disponibile per i video open source dipende però ad esempio i video di youtube sono disponibili in hd di solito quelli dei progetti che abbiamo che vi ho fatto vedere prima ok Davide è possibile mettere un post sulla pagina della biblioteca un link diretto a una favola di favole al telefono allora lì il sito di ripley secondo me non ti dà questa possibilità secondo me la cosa migliore è che tu linki alla risorsa mlol e fai accedere agli utenti da lì come portare un ebook su un e-reader beh semplicemente allora la cosa interessante è che gli ebook che tu puoi scaricare su e-reader su computer o su applicazioni insomma sono in formato e-pub questi ebook sono aperti però quindi tu li puoi anche condividere e rendere disponibili e condividere e soprattutto no scusate condividere una parola giusta convertire la parola giusta li puoi convertire e rendere nel formato che preferisci nel caso ad esempio di del Kindle tu puoi convertire questi file in pubblico dominio solo questi in moby e portarli liberamente sul Kindle è legale perché sono in pubblico dominio sulla rivoluzione francese Donatella ti mando poi le risorse le risorse specifiche scusate tutte queste risorse open le troviamo anche sull'app di Mlolo oppure sono meno le risorse disponibili sui dispositivi mobili allora sul sito Mlolo trovate tutto anche su mobile su su applicazioni invece l'app Mlolo Reader se è questo a cui Martina ti stai riferendo e immagino di sì tu vedrai che in cima all'applicazione hai un pulsante che ti dice ebook Mlolo e ebook open e ebook open che sono catalogati nell'applicazione sono solo ed esclusivamente quelli che possono essere scaricati quindi ad esempio quelli di progetto Gutenberg sì ma i racconti del New Yorker no perché non li puoi scaricare in formato e-pub dentro l'applicazione sono però quasi 300.000 quelli che puoi scaricare direttamente in app e per il resto su sito invece vedete tutto uguale sia da desktop che da mobile allora sì sì vi metto vi metto la lista sulla rivoluzione francese la giungola di slide non ce l'ho pronta adesso è per quello che stavo cercando di di saltare la domanda di Donatella ma siccome tutti si sono esaltati con la rivoluzione francese mannaggia a me allora poi vi mando la lista di la lista apposita e per il resto vediamo se c'è qualche altra perché le persone non conoscono un blog le risorse open mi viene cioè sì allora un po' magari è ancora una risorsa poco conosciuta sulle risorse open al di là del fatto che sono tante ed è difficile per tutti diciamo avere una comprensione così vasta del servizio sia da parte dei bibliotecari degli utenti eccetera eccetera e soprattutto perché gli utenti accedono principalmente a un sito come per scaricare gli ebook al momento ma le risorse open hai ragione sono veramente una risorsa incredibile e ovviamente la ricerca che abbiamo noi su media library adesso è un po' macchinosa nel senso che se uno non lo sa si fa si fa un po' fatica a diciamo farle vedere infatti una delle cose che faremo nel corso del 2020 è sicuramente studiare un modo per renderle più visibili sul sito dobbiamo richiedere le slide via mail no assolutamente vi arrivano fra sei ore insieme al video che non so come sarà venuto perché non ho capito bene come siamo riusciti a fare funzionare tutto alla fine però confidate in noi che se c'è qualche problema poi il video ve lo rimandiamo o piuttosto lo rifaccio da capo perché parlare delle risorse open mi gasa tantissimo quindi vi arrivano anche le slide lista open di biblioteconomia non l'abbiamo fatta però la puoi cercare dentro all'elenco delle liste sulla app nella selezione open solo ebook oppure anche altre risorse no solo ebook vorrei fare come Chiano Reeves in Matrix e poter caricare tutti questi moduli informativi nel mio cervello con un clic anche io le slide potete mandarle a chiunque potete avere anche quelle delle volte scorse basta che scrivete rispondendo alla mail da comunicazione chiocciolamedialibrary.it allora io direi che adesso io direi che abbiamo concluso con le domande perché sono veramente tanti io volevo solo farvi vedere quest'ultima slide che è quella con i contatti con i contatti che sono info chiocciolamedialibrary.it per le domande e il supporto tecnico comunicazione chiocciolamedialibrary.it per domande su questo specifico webinar e potete accedere alla guida amlola linkata qui ma anche agli altri webinar che abbiamo fatto in passato nelle scorse settimane quindi alla domanda che mi mandereste sicuramente via mail mi abbiamo mandato in tanti mi hanno mandato in tanti vi raccomando c'è già la risposta in queste slide non perché io non voglio rispondervi però perché vi apprevio la sofferenza c'è nella sezione che è linkata lì sul portale medialibrary generale www.medialibrary.it in info c'è esattamente alla voce calendario corsi di formazione l'elenco dei webinar che abbiamo fatto in passato cioè in passato vuol dire anche settimana scorsa se cliccate su iscriviti o guarda potete compilare i campi e vedervi ad esempio lo splendido webinar di Caterina Ramonda dedicato a Gianni Rodari e agli altri buoni maestri tipo Don Milani o Mario Lodi o René compilare i campi e rivederlo subito l'ultima cosa Bibliomedia Blog il blog delle biblioteche pubbliche italiane che ogni settimana ogni due settimane quando possono questi bibliotecari capeggiati da Silvio Franchini dalla rete bibliotecaria bergamasca rendono disponibili degli articoli che vi spiegano delle cose belle che sono disponibili a catalogo delle guide how to su come fare le cose scaricare ebook leggere quotidiani eccetera eccetera ascoltare audio ebook tutte le cose sbagliate che vi ho detto sugli audio ebook qui sono scritte in maniera corretta dei percorsi Naxos Music Library si rinnova insomma contenuti che sono disponibili su Mlola e come utilizzarli Bibliomedia Blog è la risorsa che fa per voi allora riprovo riprovo a vedere se ci sono delle altre domande guarda una piccola guida riassuntiva da distribuire agli utenti con una descrizione sintetica alle risorse open stiamo approntando una serie di cartoline e vi chiedo vi chiedo di pazientare di controllare la nostra pagina Facebook e anche le questioni le questioni relative diciamo al nostro materiale informativo che vi faccio vedere nella sezione sempre il portale generale media library ragazzi non andrei più via bellissimo nella sezione materiali informaterali promozionali comunicare Mlol verranno aggiunte anche le questioni delle relative alle risorse open quindi tenete sempre in mente questa pagina che vi consente di scaricare gratuitamente materiale che metteremo a disposizione in cui metteremo a disposizione anche cose relative alle risorse open franco in questo corso non ci sono ancora i guardi guarda nella sezione dei corsi perché sono un pigro come suggeriva Ivan Graziani e comunque li potete già rivedere tranne quello di adesso che stiamo facendo adesso se vi scrivete su quello dall'altro ieri anche se c'è scritto iscriviti già lo trovate devo ancora modificarlo e ok per tutte le altre domande relative a come funzionava questo corso io direi che vi rimando alla mail che vi ho detto prima grazie Donatella per i complimenti sul lavoro di aggregazione e grazie anche a Giulia che si gasa pure lei e detto questo io volevo provare a salutarvi sperando di non fare un danno e forse adesso mi vedete anche ma vi sentirete mi sentirete malissimo comunque volevo salutarvi di persona perché è stato un bel percorso nonostante i problemi nonostante i problemi tecnici all'inizio che vi hanno fatto vedere che cosa che cosa c'era alle mie spalle sul mio armadio di casa dovremmo essere riusciti a fare tutto quindi adesso mi eclisso vi saluto vi ringrazio per la partecipazione e per tutte le domande vi rimando all'indirizzo comunicazione chiocciolamedialibrary.it grazie per aver partecipato a questi webinar e ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.